A Gratteri si è riunita nel salone parrocchiale una rappresentanza dei comuni interessati all'incendio del mese di agosto 2007. Il sindaco Giuseppe Muffoletto, intervenuto al dibattito, si è soffermato sull'importanza della prevenzione a livello territoriale. Anche il presidente del Parco delle Madonie, Massimo Belli dell'ISCA, trova che solo con la prevenzione ed il controllo del territorio, con l'uso anche di tecnologie moderne, è possibile evitare disastri e paure da parte della popolazione. Per Collestano la regione siciliana maestosamente tace. Ad oggi non registro nessuna che si è arrivato alla regione siciliana, quantunque da Isidre e anche da me, sollecitata ad intervenire sotto un versito. Si prende la strada per Collestano, si arriva a Collestano, si attraversa il territorio di Collestano, si va verso Scilato e si ha un unico paesaggio a valle e a monte di questa strada.